Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A12 prestare attenzione al personale sulla strada per lavori tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. Spostandoci sulla strada regionale 2 via Cassia a tratto chiuso in entrambe le direzioni per lavori di manutenzione al Ponte del Paio al chilometro 152.500 tra il Bivio per Radicofani e quello per Abbadia San Salvatore. Infine per i treni l'Intercity 590 da Napoli a Milano al momento viaggia con 31 minuti di ritardo, ferma ad Arezzo alle 15.24 salvo recupero. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!